salve a tutti ragazzi ho deciso di fare questo breve video per informare tutti voi fridomiani che dal 18 gennaio fino a fine mese se andate nella sim gerion oltre a visitare questo meraviglioso posto potrete vedere una mostra di oltre 30 quadri realistici e fantasy creati dalla nostra amica fridomiana eloisa mi raccomando non perdete la possibilità passeggiando per la sim attraverso dei caratteristici ponti in legno sul bare di osservare queste strabilianti opere e tutto questo in esclusiva naturalmente su freedom grid un saluto da vj fire ciao a